buongiorno buongiorno a tutti questa è la prima trasmissione rivolta a tutti gli abitanti della galassia 5 agosto 2548 ricorderete ormai 300 anni orsono la tecnologia neutrinica ci consentiva di trasmettere informazioni in tutta la galassia senza avere disturbi nella trasmissione mai grazie alle ultime scoperte della scienza e le ultime applicazioni della tecnica che oggi noi possiamo trasmettere questi fasci neutrinici a velocità superiore a quella della luce voglio salutare tutti i 12 sistemi solari oggi abitati dall'uomo è una cosa meravigliosa che tutti i 12 sistemi solari oggi possano essere come uno solo e ormai storia 530 anni fa il 5 agosto 2018 il canale youtube parole di libertà lanciava in modo scherzoso giocoso un po per divertimento la prima simulazione di trasmissione galattica ma oggi 530 anni dopo siamo davvero capaci con le nuove le tecnologie neutriniche di comunicare da un lato all'altro della galassia pensate cosa voglia dire poter comunicare pressoché istantaneamente da un sistema planetario all'altro della galassia l'informazione poter comunicare le notizie prima noi impiegavamo anni abbiamo in realtà anche secoli dipende quanto in anni luce erano distanti i vari sistemi planetari era davvero davvero difficile oggi possiamo pressoché istantaneamente comunicare questo è un grandissimo palzo in avanti possiamo sapere quello che sta accadendo su rosmiroff oppure possiamo sapere quello che succede su concordia la nostra capitale galattica noi fino a poco fa abbiamo utilizzato delle tecnologie che ci consentivano di procedere alla velocità della luce questa però è la prima comunicazione super luminale noi prima impiegavamo anni impiegavamo decenni oggi noi istantaneamente comunichiamo da un lato all'altro della galassia tra l'altro fino a qualche anno fa noi riuscivamo a teletrasportare i uomini a velocità della luce quindi serviva del tempo per portare un uomo da un sistema planetario ad un altro ora grazie al teletrasporto super luminale noi riusciamo istantaneamente a trasportare un uomo da una parte all'altra ecco immaginate questi 12 sistemi planetari racchiusi in un piccolo spazio galattico e improvvisamente grazie alle nuove tecnologie del trasporto galattico poter teletrasportare un uomo sull'altro braccio della galassia è veramente un gigantesco passo in avanti e per concludere questa prima trasmissione galattica voglio usare le stesse parole che usò il primo astronauta che approdò sul primo pianeta abitato dall'uomo al di fuori del sistema solare un piccolo pianeta per un uomo un intero universo per l'umanità ciao a tutti e buona galassia a tutti